La bella lava al fosso Nome Eugenia Anastasia Soprannome Il nome vero dell'altro Anastasia No Anastasia Preobrazianskaya Caio Demon Eugenia Uge 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 Io non ero Ti sei mai fatto una canna? Qualità Sì Qual è il tuo sport preferito? Mmm... Basket Preferisco notare Qual è il tuo animale preferito? Ah, non dite l'anastasia. Il cane. Cane. Se fossi un cane, che cane saresti? Un mastiff. Un cane corso italiano. Avete un minuto per disegnare il vostro cane ideale. Qual è il tuo paese estero preferito? Taspagna. Italiano. Quale paese estero ti piacerebbe visitare? Argentina. Qualche luogo esotico. Fai mai le puzzette a tradimento sotto le coperte? Ovvio. Attenzione, adesso prova Canora. No. Canta l'inno nazionale dell'altro. C'è il tappichi. No, scusa, non lo so. Cosa è italiano. Quale lavoro volevi fare da grande? Il violista. I wanted to be a professional sportsman. Quale lavoro vorresti fare adesso? Sono contento di quello che farsi. Niente. Qual è la volta che hai fatto arrabbiare di più i tuoi genitori? Quando sono tornato a casa con Scipio. Alle sette di mattina, senza aver avvisato. Ok, ho fatto un partito per gli amici scuolari. All'apartamento dei miei i tuoi genitori era un errore. Perché veniva troppo persone e ha distruttato tutto. Davvero? Russa la notte? Un po' sì. Caio, che cosa ti piace di più di Anastasia? No, scuola, è il fatto che è dolce, è molto dolce. E che cosa ti piace di meno di Anastasia? Il suo caratterino esplosivo. Anastasia, che cosa ti piace di più di Caio? Mi piace che lui è molto grande. E che cosa ti piace di meno di Caio? Mi piace che... Si sporchi le camozze. Sì, anche questo non mi piace. Dunque lui è un disastro. Ti sei mai ubriacato fino a stare male? Sì. Yeah, sure. Ti schiaccia mai i piedi mentre balla? No, io li schiaccio. Sì. Caio, si sporcherà il matrimonio? Ovvio. Cento per cento. Come è stata la prima volta? Cavalcata trionfale o toccata e fuga? Eh, sono maturato nel corso degli anni. No, no, no. Attenzione, adesso una serie di domande a cui dovete rispondere solo sì o no. Lo avete mai fatto? A casa dei genitori di lui? Sì. No. A casa dei genitori di lei? Sì. No. Sulla lavatrice? Ovvio. No. Romanticamente sulla spiaggia? Dopo Italia e Germania? Ovvio. No. Hai mai finto l'organo? No. Sì. Qual è stata la volta più imbarazzante? Imbarazzante? Niente imbarazzante. Scrivete una dichiarazione d'amore per l'altro. Cara torta sbrisono. Sono il tuo alano. E quando torno a casa a ciocco per la vodka penso al Madagascar, non alla perestroica. E odio la matriosta. Io ti amo tanto e qualche volta più dei gelati. Ti amerò fino a quando finirai fare le macchie sulla camicia. Allora credo che ti amerò sempre. Ultima richiesta. Mandate un bacio in diretta al vostro futuro consorte. Abbiamo finito. Quando parlare russian, cut later, ok? I guadagni non comprendranno, ma la mia famiglia sarà. Non posso fare il mio cuore? Troppo. No. Pronta? No. Il mio amano? Oh, sta facendo qua, zio cane! Se fossi un cane, che cane io sa... Che cane sia? No. 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 Flamingo. Come ti chiami? C'è un sottotitolo, eh? Carioca. Terzo fu satanà. È vero che ha dato un party per pochi amici a casa dei suoi e si sono presentati quasi cento persone. Falso. Il lucifero. Perfetto. Perfetto. Vai. Vai, va bene così. Dai, Caio. Vai, vai. Dai. 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 Grazie a tutti.